Portiamo l'Europa in Italia Obblighiamo il nostro Paese ad equiparare gli stipendi dei dipendenti pubblici a quelli europei e non pensare solo ai tagli delle risorse Non votiamo che etichette dipendenti pubblici come fanno loro Noi tagli alla scuola, noi tagli alla giustizia, noi tagli alla sanità La donna è protagonista in Europa e in Sicilia e può conciliare la vita lavorativa con quella familiare Siamo l'unico partito in Italia con una donna candidata capolista in tutte le circoscrizioni Anche voi giovani dico liberiamoci, diamoci voce e libertà uscendo fuori dalla gabbia della vecchia politica Liberiamo il nostro voto Giuseppe Mancuso Per poter dire quello che gli altri non dicono Vota il vero ed unico candidato favarese alle elezioni europee Grazie a tutti Grazie a tutti